Traffico e code in via Cecilio sembrano destinati a proseguire ancora per diverse settimane. Il cantiere aperto nella zona sud di Como infatti non chiuderà come previsto il prossimo 31 ottobre, ma come annunciato nell'ordinanza comunale proseguirà almeno fino al prossimo 15 novembre. A causare il prolungamento per altre due settimane dei lavori per lo spostamento della rete e dell'acquedotto sarebbero state le piogge. Resterà ancora in vigore dunque il senso unico di marcia in direzione dell'ingresso dell'autostrada. Ad essere penalizzate dal prolungarsi delle opere le vie attorno all'area dell'intervento utilizzate anche come percorso alternativo. Fino al 15 novembre dunque è stata disposta la chiusura al traffico veicolare 24 ore su 24 di via Cecilio nel tratto compreso tra la rotatoria dell'Alambicco e la rotatoria di via Paoli del senso di marcia normalmente destinata al traffico in discesa dall'Azzago verso via Paoli con deviazione dello stesso lungo percorsi alternativi. Il primo attraverso via del DOS via Varesina, il secondo interessa la strada di collegamento via Cecilio via Pasta Grandate via Pasquale Paoli. Resta come anticipato l'istituzione in via Cecilio tratto da via Paoli a rotonda dell'Alambicco del senso unico di marcia in direzione ingresso autostradale.